E' una notizia non notizia perché da giorni circolava l'indiscrezione che Bruno Gabrielli sarebbe stato il candidato sindaco del PDL San Benedettese. Tanto che la conferenza stampa di questa mattina, che ha serrato i ranghi azzurri, è servita solo a ratificare la nomina del giovane legale ad Anti Gaspari. Nato a San Benedetto nel 1970, dove vive e lavora esercitando la professione di consulente legale, Gabrielli ha sposato con Nicoletta e ha due figli, Lorenzo ed Andrea. Oggi assessore provinciale al turismo e consigliere comunale di San Benedetto ha ricoperto l'incarico di presidente dell'azione cattolica italiana per ben sei anni ed ora è pronto a scendere in campo. Pronto e onorato di ricoprire questo ruolo di candidato sindaco per il mio partito, ma non solo. Noi stiamo cercando di aggregare il più possibile per fare in modo di creare una compagine che sappia contrapporsi al sindaco uscente che sicuramente non ha brillato per le sue capacità amministrative. Teme l'allontanamento di future libertà e generazione Italia che hanno detto di voler appoggiare Mario Narcisi? Vede, noi come dicevo prima abbiamo aperto il dialogo con tutte le forze politiche, anche con il dottor Narcisi. Condividiamo comunque la stessa finalità che è quella di dare un'alternativa a questa città, quindi io non temo che vi possa essere questa vicinanza perché comunque concordiamo su quello che è l'obiettivo finale. Il nodo cruciale è quello delle alleanze, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra è fondamentale avere dei buoni alleati, cioè il lago della bilancia potrebbe essere l'Udc, voi andrete a dialogare con questo elettorato? L'Udc è un nostro alleato naturale, dove siamo al governo nelle principali città delle Marche l'Udc è con noi. Ultimamente ha preso una strada pericolosa avendo scelto di appoggiare Spacca in Regione, una scelta secondo me dettata dall'esigenza di trovare qualche poltrona, però credo che i valori nei quali crede l'Udc siano più vicini a quelli del popolo della libertà che alla sinistra. Gabrielli dovrà vedersela quasi certamente con il sindaco uscente Giovanni Gaspari, ma anche con Gabriele Franceschini e con la new entry Mario Narcisi. E mentre il centro-destra gioca a carte scoperte, il centro-sinistra non scioglie le riserve, anche se tutto lascia ipotizzare con o senza primarie un Gaspari Bis.